Oh che paura, aiuto. Una sub-war quasi a caso, no! Tutte le hack a tutti. Oh my god, ho sbagliato tutto. Ho sbagliato. Ho sbagliato le rune, credo. E sta cosa finirà? Anche sul canale di Fieri. Oh no, c'è uno Yasuo. Maveri con Jason. Oh my god, Jack Lett! Scarle! Oh shit! Ma non abbiamo... Ah ecco, infatti c'ho... Ok, son bot. Sono un cacchio di support. Speno di un minchiata. Eh... Ah c'è, non posso comprare... C-cavoli! Eh, do modificare la build... base. Mi dispiace Riccardo, ma devo... moddartelo. Come si gioca? Non tocco League of Legends da due mesi. No, dalle... da prima e dall'estate mi fa... o durante. Non mi ricordo niente. Ottimo. Chi è che mi scrive su whatsapp? Va bene. Tutti mi cercano mentre gioco. Tanto good luck a tutti. Tanto good luck a tutti. Tanto good luck. Forse ho una build. Eh, però con che doron unici. Oh! Ma poi niente putz, eh? ... ... ... ... ... benvenuti nella landa degli evocatori 30 secondi alla generazione dei nion con delicatezza minionizzazione armoniosamente minionizzazione Crono e viscrone. Preciso come un metronomo. Adagio, evocatore. Perfettamente il tempo. Crono e viscrone. Rombo di cuono. Preciso come un metronomo. Un sublime gioco. Sono eccitata. Perché? Cosa è il problema? Questo è un game, dai su. Gianni la potrà essere quasi C. No, c'è Vorwik. Mi sta bene. Perfettamente un blu. Prendi. Il primo, scoffo. Alla cosa? Lì. Cosa? Oh. Povero Mavri, no. No, ho fatto una cazzata io qua. Andiamo indietro. Ero metterilla. Così. No ci compriamo. Ehi, grobi, I'm sorry, non gioco da un mese. Che canna non insegna mai. Movimento accelerato, concordo. Ah, l'ho sprecato. Spera che ho troppo, mano. No, no, sto cercando a troppo, ma. Ma tipo, no. F**k. Preciso come un metronome. No, no, ho preso le pozz... Porco sardina. Dalla mia nemina alla terra. La 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 la. No, no, ho preso. Un rischio di merda. Sì, scusami, torbato minion. Un sublime duetto. È bu- Sì, scusami. Sì, scusami, torbato minion. Sì, scusami. Sì, scusami, torbato minion. Con delicatezza. Un sublime duetto. Un pedito stato ucciso. Un pedito stato ucciso. Ouch. No, non puoi farci la lucosa. Perché gli serve un buff cavolo. Ma sì, tanto al flash. Un pedito stato ucciso. Uff, ah. Uff, lo devo dire io. Adagio, evocatore. Non umana. Cazzo. Un pedito di queste. Un pedito. Un pedito. Un pedito di lezione. Un pedito di lezione. Un pedito di varie. Un pedito di trasportazione. Un pedito di metà di varie. no 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 oi 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 orara oi è sempre preciso come un metronomo ok It's ok, it's ok. Ouch, è crollato. Ce la fai? Mio mouse non funziona, ozio. No, minio, minio, minio. E però se Warwick s'ha installato, it's a problem. No, non gli devo andare adesso. in s TELECITO! No, no, no! NO! Alliettive! Dalla mia mente alla tua. C'è ancora un drago? C'è ancora un drago? Ah... perché non so... sanno giocare. Io non toco sta roba da mesi. Io ho sbagliato prendendo le skill giustamente. Nonononononononono, eh... Questa è una macchina. A questo non ci sono fanno. La tua squadra ha distrutto una torre. Un sublime duetto. Con delicatezza. Movimento accelerato, concordo. Adagio, evocatore. Magari, avocatore. Lata, il freddo. Lata, il freddo. Sperare. Adagio. Lata, il freddo. Oh no, c'è Scarl. Fuck. Nani, perché sono informati indietro? E' che non sembra avvicinata questa gude schifosa. No. No. Ok. Come farma? Come farma? What? Si, ma io sono scoperta di fianco. Si, vabbè. Perfettamente a tempo. Con delicazza. Grazie a tutti. Se è il nostro ADC, tu non puoi morire. Però cavoli! Che fammo? Iniziamo a ballare. Ops! Sono tutti qua! Che bello! No! Via! Non sapevo che dove prendere la canna. Spooky! Spooky! Oh, quanto di laga! Se si avvicina... L'ulto in faccia... No! No! Merda! Su sale! No! 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 Ah, io non lo so se c'era qua. Oh, merda. Vabbè, ma ero senza mano. No, mi serve danno. Perché non è possibile. Madonna, tutti gli stanno. Tare magico. Perché non posso fare niente. Non potrei comprare un caglio. Vicenzio, va bene. Cos'è il problema? Excuse me. Serie di uccisioni interrotta. La tua squadra ha distrutto una torre. Oh. Eh, che bello. E se ci riservano a qualcosa. Perfettamente a tempo. Perfettamente a tempo. Torno via 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 via! Dove cazzo lucem? Oh. Dove cazzo lucem? Dove cazzo lucem? Oh, no! Oh, no! Wow! Quanto leva! Dio 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 La parte tanto a ferro del loro, wow Ok, Warwick, vola me Do something. Questa vista, non ho disceso No, saranno senza scarpe, Dio Oh no, fucking sky. Non dovevo avvicinarmi via. Se non ultavo. Se non ultavo. Ok, next item. Cosa mi faccio? Cosa diavolo mi faccio? Ah, tu guarda la tua fana. Sai che sfera dell'oblitto. Non c'è soltanto buio. Cazzo. No. Preciso come un metronomo. Movimento accelerato, concordo. Non, non passiamo a posto. No, non ci arrivo, non ci arrivo. Non potevo ultarla. No, la perdiamo. Cazzo. E ormai ci stanno in base. Ma cazzo, abbiamo il... ...è pushata e... Ops, I'm sorry. Pureguero! Alla radica, orcia. Oh. 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 Chiudetelo, 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 riprende. Hai zara per sta cosa. Ah, che sofferenza. Che sofferenza. No. Ma la male che mi hanno fermato, ma dove fare l'idea? No, non lo puoi fare, cazzo. Verdo. Vabbè.